Musica Musica Ragazzi buonasera ragazzi eccoci una nuova avventura stasera diamo caccia alle spigole va giù con la nostra calamarella bellissima e adesso andiamo a innescare e vi faccio vedere l'innesco ragazzi l'infamadre 040 mini trave terminale 035 con amo 01 passiamo all'innesco facciamo passare sopra e poi nella testa ragazzia per aiutarmi prendo l'ago faccio passare all'interno della nostra calamarella come la chiamo io e andiamo di filo elastico ed ecco come risulterà il nostro innesco facile ed efficace dai lanciamo e vediamo se la spigola ci viene a trovare mi quadri mi coppa mi coppa mi coppa mi coppa più dietro dietro ragazzi al primo lancio ragazzi una bella spigola subito al primo lancio allora ragazzi fine pescata me ne vado va bene così stasera da si conclude alla grande con una bella spigola veramente bellissima oggi guardate che colori che c'è adesso che ho smontato ho visto una cacciata sull'acqua ma va bene così e quindi non rimane che dire se vi è piaciuto il video lasciate il like iscrivetevi al canale surf casting nel golfo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti